Ciao a tutti! Oggi si chiama Mushi Surprise e sono dei cartoncini con dei squish muopidosi e due mushi, una stanza e un arredamento in ogni cartoncino. Guardate quanto sono belli tutti e Mirko già ha scelto il suo primo mushi da aprire, vero? Questi due, tre hai scelto, cinque hai scelto, quattro hai scelto, cinque hai scelto! Dai, apriamo adesso uno per scopere cosa c'è dentro! Quale abbiamo? Questo abbiamo! Vediamo! Cosa troviamo dentro? Una pallina! Ma non è una pallina! Lì ho trovato un bel gattino bianco! Guarda! Che spiscinoso, morfidoso! Che dorme! Guardate quanto è bello! E tu puoi vedere cosa hai trovato? Un anzello! Facciamolo vedere! Eccolo qui! Aspetta! Guarda che non è finita qui! Quello l'hai aperto? Questo? Quello l'hai aperto? Guarda che qui! No, abbiamo aperto questo! Qui dentro ragazzi! C'è anche una stanza! Guarda! Guarda tutta la stanza che si può accogliere! Oh! C'è anche un lavandino! Guardate che carino! Un pezzo di arredamento con il lavandino! Il bagno! Tu apri quello? Qui c'è tutta la collezione dell'aredamento e dei squishy che possiamo trovare in questi cappuccini! Quindi! Hai trovato un altro? Dunque! Mettiamo i nostri squishy qui nella stanzina! Così? Sì, così! E adesso Mirko ha aperto un altro cartoncino dove ha trovato... cosa hai trovato? Ho trovato questo! Uuuuuh! Che carino! Pippo, Pippo! Pippo, Pippo! E' uno rosa! E poi abbiamo trovato un altro bagno! Un bagno! Eccolo! Un bagno dove si aprono anche gli scartelli! Eccoli! Quindi diamo e mettiamo... Facciamo un grandissimo bagno! Che qui abbiamo anche la vasca da bagno! Eccola! Dai, li mettiamo qui! Abbiamo fatto un bagno grande enorme! E apriamo un prossimo cartoncino! Mamma! Quello che cosa è? Cucinando di questo! Mamma! Ragazzi, qui abbiamo trovato in questo cartoncino uno squisciutoso maielino bianco uno viola abbiamo trovato una sede, una lampada e questo è un soggiorno che poi andiamo ad aggiungere per creare la nostra casetta Questa è una cameretta da letto, guarda! Mettiamo l'armadio Tu metti lo squisci Guarda! Guarda questo che carino! Un coniglietto! Questo cartoncino abbiamo trovato! Uno squisci maielino rosa un coniglietto azzurro Sì, aspetta un attimo Abbiamo trovato anche un bellissimo armadio! E la nostra camera da letto con un bel letto Mirko ha aperto un'altra stanza Vediamo che stanza abbiamo trovato Un'altra szzurro! Vediamo! È un Mirko con la camera da letto! Dai, mettiamo il nostro coniglietto bianco Ok Una lampada No, quella è una lampada Mettiamola su un comodino Guardate ragazzi Si aprono anche i cassetti Mettelo dentro E io apro il tuo sushi Verde Che sembra un papperotto verde Ti 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 Papperotto verde Ti 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 Io ho trovato un unicorno maialino Hai trovato un altro armadio! Bravo! E qui abbiamo trovato E qui abbiamo trovato Cosa è questo? Cosa è questo? Cosa è questo? Un topolino! Un topolino! Ti aiuto! Ti aiuto! Ti aiuto subito! In questo cartoncino abbiamo trovato Un che sembra topolino Umbo e un unicorno maialino! E qui abbiamo trovato un armadio e questa sarebbe un'altra stanza da letto! Guardate quanto è bella! Cos'hai aperto te? Qui abbiamo trovato un altro bagno, un maialino e un gattino! Tu cos'hai trovato? Un sito! Vediamo la stanza Che stanza è? Ecco la nostra stanza! Un maialetto! Certo! Vediamo qui il nostro maialetto rosa, fucsia Abbiamo una sedia E' una lampada! Poi un altro maialino verde! Vediamo! Un maialino! Guarda qui! Eccolo qui! Dai, metterlo qui! Queste sono le stanze che noi abbiamo trovato e abbiamo collezionato Anche se sono delle stanze doppie non fa niente perché ci mancano altri cartoncini Che dopo apriremo in un'altra puntata Quindi guardate, non perdete le altre puntate e vi salutiamo! Ciao! Ciao!